ciao a tutti benvenuti in questo faccia a faccia tra i tre candidati all'osservatorio regionale della lombardia benvenuti a tutti e vorrei innanzitutto fare una domanda lampo su perché l'osservatorio per voi è importante e su perché è importante votare per l'osservatorio vai alessandro dell'area dei servizi ciao a tutti io sono specializzando in anestesia alla scuola di favia e sono candidato ovviamente quindi per l'area dei servizi osservatorio è importante perché è l'organo tecnico di valutazione delle nostre scuole è il ruolo in cui una commissione paritetica vengono valutate le varie scuole di formazione la qualità della scuola di specialità la qualità dell'insegnamento e la qualità della nostra frequenza nelle parti ospedalieri e delle frequenze nella rete formativa è il luogo in cui possiamo veramente fare la differenza in quest'ultimo anno abbiamo visto che quando ci facciamo sentire riusciamo a ottenere cose importanti come il bonus covid che le regioni non ci volevano erogare i contratti per il covid il contratto per i vaccini questo l'abbiamo fatto con lo sciopero e con la mobilitazione che faremo ancora quello però invece c'è un posto invece ufficiale in cui i delegati hanno il potere di poter interagire con con i docenti e con gli strutturati che partecipano e poter valutare le scuole il ruolo diciamo il luogo dove possiamo far sentire la nostra voce e passo la parola a francesca albanesi invece candidata per l'area chirurgica ciao a tutti allora rispondo un pochino alla stessa domanda nel senso l'area chirurgica purtroppo in italia sappiamo benissimo che è quella un pochino più carente dal punto di vista della formazione sia per la questione formazione pratica sia per la questione sovrappollamenti e ancora di più con gli ultimi due anni con i tantissimi ingressi che ci sono stati e a cui molte scuole non hanno saputo rispondere l'osservatorio è garanzia di tutta questa rete formativa più o meno realmente presente nelle nostre scuole di chirurgia e assolutamente necessaria e in più è l'organo tramite cui possiamo proporre di regolamentare standardizzare tantissimi aspetti della formazione chirurgica quindi non solo quelli pratici l'andare in sala operatoria ma in generale una formazione a 360 gradi come all'estero hai perfettamente ragione e passo la parola invece all'area medica con il candidato francesco pasini ciao a tutti io sono come diceva alessandra sono francesco pasini sono uno specializzante in neurologia all'università di milano vicocca quindi lavoro materialmente al san gerardo di monza mia candidatura è motivata dal fatto che spesso pensiamo che dall'alto appunto dove vengono prese le decisioni non ci vogliono ascoltare ma in realtà io credo che la voce non arrivi dove deve arrivare quindi questo vuole essere un modo sicuramente per portare quelle che sono le nostre criticità i problemi che viviamo ogni giorno in un luogo consono perché possono essere ascoltate soprattutto perché come diceva anche il mio collega alessandro si possa fare la differenza e questi ultimi due anni ce l'hanno provato uniti con una mobilitazione ma soprattutto facendoci ascoltare spiegando le nostre motivazioni le cose si possono ottenere e questo speriamo che sia solo l'inizio e vogliamo che sia solo l'inizio si vota oggi e domani sulla piattaforma voto facile il link arriverà sulle mail universitarie insieme alle credenziali personali per qualsiasi problema tecnico non esitate a contattarci vota perché che è già ben rappresentato quest'anno che è già ben rappresentato quest'anno